europea. Il Parlamento europeo è vero che è rappresentativo dei popoli europei perché si viene eletti con il voto di preferenza, cioè quando vi recate alle urne per votare dovete scrivere il cognome del candidato prescelto, quindi c'è un vero e proprio mandato da parte dell'elettore nei confronti dell'eletto, ma il Parlamento europeo è l'istituzione che non conta quasi nulla tra le tre istituzioni dell'Unione europea, le altre due sono la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea. È la Commissione europea quella che ha i poteri, i veri poteri, sia il potere esecutivo perché la Commissione è il governo dell'Unione europea, quindi il Presidente della Commissione è il capo del governo dell'Unione europea, ma la Commissione europea è anche il vero potere legislativo perché le proposte di legge nascono in seno alla Commissione europea che poi le invia al Parlamento, il Parlamento le esamina, le può emendare e le può modificare, cioè può approvarle e può bocciarle. Se le boccia tornano alla Commissione europea e la Commissione europea le rinvia con una formulazione diversa. Le leggi che ci governano non sono espressione del Parlamento europeo, sono espressione della Commissione europea e il fatto che l'80% delle leggi nazionali siano la semplice trasposizione di direttive di regolamenti europei nati in seno alla Commissione europea che è un esercito di 40.000 dipendenti che non sono eletti da nessuno e che non rispondono del loro operato se non alle potenti lobby che sono pienamente legittimate in seno al Parlamento europeo. Ecco perché non saranno le elezioni europee a cambiare il nostro destino, ma sarà la presenza di una vera e propria volontà politica sovranista. Quindi un governo sovranista e un capo dello Stato sovranista. Sovranista significa che vogliono il riscatto della sovranità nazionale dell'Italia, che oggi noi non abbiamo. Abbiamo perso al 100% la sovranità monetaria, abbiamo perso l'80% la sovranità legislativa, abbiamo ipotecato la nostra sovranità giudiziaria perché le sentenze messe dalle corti europee prevalgono sulle sentenze messe dai tribunali italiani, abbiamo perso la nostra sovranità in materia di sicurezza e di difesa, abbiamo perso anche la sovranità alimentare che l'Italia aveva. La sovranità energetica noi non ce l'avevamo, ma avevamo un maggiore spazio di operatività prima che fossimo costretti ad attenerci alle regole soprattutto di natura finanziaria dell'Unione Europea.